Ciao Claudia, ciao maestra Lidia, ciao maestra Teresa, ciao maestra Rosalba, ciao mi mancate tanto, un abbraccio, un bacio ai miei compagnetti, vi voglio bene. Ciao maestra Lidia, Claudia e Teresa, da poco andiamo a mare, a settembre ci vediamo all'asilo, ciao ciao. Ciao maestra e ciao compagnetti, vi vanno un bacione e ci vediamo presto. Ciao maestra, mi mancate tanto, speriamo fin di vedersi a settembre, buone vacanze, ciao. Ciao a tutti i besti e i compagnetti, ci vediamo a settembre. Di notte a Giulia Lavro, viva, viva la scuola, dove tanto il tempo vola, sembra ieri, domani già, un altro anno se ne va. Maestra, un grande bacio ai miei compagni e ai miei maestri, e riposate, che a settembre ci rivediamo. Ciao maestra Dio, ciao maestra Teresa, ciao maestra Claudia. Ciao maestra, ciao ragazzi. Ciao i miei compagni, ciao i miei maestri, siamo tanto dovevamo scuola. Buona vacanza, ci vediamo a settembre e un grande bacio. Ciao maestra Olivia, ciao maestra Claudia, ciao maestra Teresa, ti voglio bene. buona vacanze, buona vacanza maestra, maestro, un bacione e i miei compagnetti. Tatti tatti. Ciao maestra, ci vediamo a settembre e mi inviate il mio cane. Un saluto, mi inviate il mio cane. Ciao maestra Olivia, ciao maestra Claudia, ciao maestra Teresa, ti voglio bene. a tutti i compagni e un grande bacione. Ciao maestra Olivia, ciao maestra Claudia, ciao maestra Teresa, ci vediamo a settembre. Un bacio forte. Ciao maestra Olivia, ciao maestra Claudia, buona vacanza. Ciao i compagni di scuola, buona vacanza. baci baci baci. Ciao maestra Lidia, ciao maestra Claudia, ciao maestra Teresa, ti mancate tanto. cari maestre, anche quest'anno scolastico sta per giungere al termine. Un anno strano e confuso. Ci siamo trovati all'improvviso tutti distanti, un po' più tristi e con i sorrisi spenti. Siamo stati privati di quella quotidianità che troppo spesso abbiamo dato per scontato. Nonostante le innumerevoli difficoltà, siamo però riusciti a trovare nuovi modi per stare tutti più vicini. E proprio voi, con la vostra disponibilità e il vostro amore, siete state sempre presenti nelle giornate dei nostri piccoli. Che sia stato come un disegno, una telefonata, una videochiamata. Di tutto ciò, noi genitori ve ne siamo grati. Grazie, grazie perché seppur lontane, avete sempre teso una mano verso i nostri piccini. Con immenso affetto, le mamme dei cuccioli della sezione C. Grazie. 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 Grazie.